Buongiorno e un saluto a tutti, ancora auguri buone festività, situazione sul titolo General Electric, dopo che ieri abbiamo avuto uno spunto su tutti gli indici americani, vediamo come potrebbe volversi la situazione per un titolo che negli ultimi periodi ha sofferto tantissimo, questo è il grafico di General Electric in time frame weekly e appunto vediamo come dai 30 e passa dollari si sia arrivati ai 7,40 dollari, sul settimanale con la discesa è chiarissima, vediamo comunque come da questo minimo in cui era partito un titolo di lungo periodo nel 2009, terminato poi il rialzista nel 2015, nuova partenza sempre a rialzo come ogni ciclo che parte a rialzo, rottura in questo punto del minimo di partenza, il ciclo si va decretando ribassista e i batteri tra i sottocicli blu, giallo e rosso, chiaramente di più breve periodo hanno spinto con la debolezza del titolo e adesso si è arrivati a un punto in cui non è ancora iniziata, dovrebbe essere la successiva spinta ribassista per i prossimi anni e siamo a un punto in cui sul livello settimanale potremmo avere, è un titolo comunque che è stato scorrelato negli ultimi due anni dall'indice statunitense che è comunque salito mentre General Electric scendeva e quindi cerchiamo di lavorare guardando solamente questo graffo in sala di indici. Qui adesso noi abbiamo un'area temporale nella quale sembra terminata dalla fase di discesa dei sottobatterplan e dove potremmo avere un rimbalzo fisiologico anche discretamente interessante come tempo. Ricordo che appunto i batterplan indicano il tempo e il prezzo nel senso che noi andiamo a vedere e in teoria, parliamo di teoria, nei primi mesi del nuovo anno potremmo avere una fase rialzista. È chiaro che tutto va preso con le molle e anche l'analisi ciclica come ogni altra analisi nel trading è qualcosa di statistico e di probabilistico ma ci sta, ci sta che si possa avere un pullback rialzista prima di un'eventuale nuova debolezza più avanti. Quindi come tempi ci siamo per quello che potrebbe essere una fase di rimbalzo. Passando poi ad analisi tecnica nuda e cruda qui siamo sul daily, vediamo che si sta iniziando a formare un possibile triangolo rialzista quindi con i minimi crescenti e esso sarà confermato sulla rottura degli 8 dollari che potrebbe dare in questo caso appunto in maniera sincrona all'analisi ciclica potrebbe dare sopra gli 8 dollari un segnale rialzista. Vediamo come in tutta quest'area è interessantissima l'esplosione dei volumi, c'è quindi interesse sul titolo e la divergenza rialzista del momentum rispetto ai prezzi. Per cui monitoriamo General Electric con ottica di breve periodo long sulla rottura degli 8 dollari. Un saluto a tutti e ancora auguri.